Uè! Non fare la banana flambè! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia mamma mia quante novità che ci sono nel video di oggi per quello che riguarda i prossimi giorni di Fortnite! Insomma ragazzi sono terminate da poco spero per voi tutte le sfide della settimana numero 6 non difficili solo un po' lunghe da fare adesso guardiamo già avanti ragazzi e porca miseria nel video di oggi parleremo ovviamente dell'argomento sulla bocca di tutti la rovina di Fortnite che cos'è? Non è che Fortnite sta morendo no no! è la news che è apparsa nelle sezioni apposite ieri pomeriggio indicativamente verso le 16.30 ne approfondiremo un pochettino ragazzi ma abbiamo tante notizie anche sui nuovi respawn van quindi camion che ci sono in giro per la mappa e che ci permetteranno di riavere un nostro compagno di squadra appunto di farlo respawnare vi spiegherò un po' di cose sono apparsi nuovi dettagli molto interessanti e ragazzi una skin segreta all'orizzonte non sappiamo se sia quella della season 8 segreta ma voglio farla vedere insieme a voi perché è presente nei file di gioco colgo però l'occasione per ringraziarvi tantissimo per utilizzare il mio codice creator xyuderone grazie di quale ragazzi per il mega sostegno e il grande supporto che date al canale non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live prima però ragazzi la domanda ve la devo fare la domandina è quella lecita che ogni video ve la faccio i vostri commenti qua sotto è una domanda molto personale ragazzi ma che livello sei arrivato del pass battaglia dai ragazzi qua il tempo stringe la season sta per finire porca gnofa abbiamo 4 settimane ci siamo al pass battaglia siete arrivati al livello 100 del pass battaglia dai raga ditemi un po' sotto qua che livello siete io sono arrivato a livello 85 me ne mancano 15 ragazzi gli ultimi 15 se tutto va bene per giovedì prossimo dovrei farcela anche io a completarlo e quindi cominciare tutte le sfide per la skin lusso quindi tutti gli stili e i vari oggetti che la vanno a completare orca miseria parte subito allora ma quindi ciancio le grandi bando le ciance spediamo un attimo due secondi ragazzi per una delle skin secondo me più interessanti e anche più divertenti uscite in questa season insieme alla banana ovviamente ragazzi il pattugliatore pungente con tanto di piccone ho visto che molti di voi l'hanno presa io ho avuto la fortuna di averla ricevuta in dono da mister frappo grazie di cuore insieme al piccone pungiglione adesso non ricordo bene il nome del pungiglione la skin è davvero molto molto carina sono quasi convinto ragazzi che in realtà nasconda già una delle nuove emote che verrà pubblicata nei prossimi giorni che dovrebbe essere appunto l'emote del cactus che la fa rimanere ferma così vi ricordate ad esempio la posa t quella per gli spaventapasseri nella season 6 con l'evento di halloween speriamo che arrivi anche per questa skin una posa dedicata che farebbe veramente una grande figura con un bel set completo ma andiamo avanti cominciamo a parlare di roba interessante qua ragazzi arriva di prepotenza come un ladro nella notte la news rovina la rovina sta arrivando legge una cosa del genere mi sale su il cappone del natale del 94 porca miseria devo capire che cos'è questa cosa intanto abbiamo una fotografia da tre punti di domanda nel riquadro in alto dove di solito ci sono scritte le cose abbiamo solo tre punti di domanda e abbiamo una faccia con due occhi ovviamente infuocati voglio farvi vedere l'immagine un pochettino più in alta definizione un pochettino più da vicino ragazzi vista così si nota innanzitutto che ha un'armatura questa figura chiamiamola così ovviamente su reddit sul web spaziano alla grande tutte le teorie del quale potrebbe essere questa skin non chiedetemi che italiano utilizzato in questo momento innanzitutto ragazzi vi dico già una cosa è uscita una notizia da parte di un leakers che è abbastanza affidabile potremmo avere nell'evento che adesso vi faccio vedere vi rifaccio vedere i nuovi mostri del fuoco ragazzi non ho parole non ci lasciano stare hanno cominciato nella season 6 ad arrivare i mostri del cubo hanno proseguito nella season 7 ad arrivare i mostri del ghiaccio beh ragazzi aspettiamoci in questa season i mostri del fuoco porca gnofa pensavo ce ne fossimo liberati e invece niente da fare ma ragazzi vi ricordo che nei file di gioco è presente questa cosa interessantissima che è un evento che inizierà il 3 maggio e molti dicono che possa essere appunto un evento associato a questa skin che ci hanno in poche parole semi spoilerato che secondo me non è come alcuni dicono la skin segreta della season numero 8 sarebbe troppo troppo dai non possono spoilerarci così la skin segreta di questa di questa season ma ragazzi vi ricordo anche che nei file di gioco c'è un super piccone ancora non rilasciato molto molto figo ragazzi probabilmente uno dei picconi più interessanti di questa season tanta roba e voglio farvi vedere una skin che ancora non è stata rilasciata secondo voi potrebbe essere questa la skin che è stata spoilerata ci assomiglia molto però non è molto simile qua nella parte della bocca quindi sappiamo che c'è questa skin che non è una versione di john wick come alcuni hanno detto è proprio una skin indipendente che probabilmente anche se io non ce la vedo bene associarsi a questo piccone non sono convinto che sia un set sono convinto che questa skin sicuramente potrebbe far parte di qualche cosa ovviamente relativo a un evento o a qualcosa di particolare o forse addirittura a quella rovina che ci hanno detto insomma ragazzi se avete qualche idea su che diamine possa essere questa rovina vi prego scrivetemelo qua sotto nei commenti che sono super curioso di leggere anche le vostre idee ma andiamo avanti e parliamo velocemente del rientro della modalità trio da poche ore ragazzi vi ricordo potete giocarla nella ltm una modalità che a me piace particolarmente meno confusionale della partita in squad al posto che giocare in 4 molto semplicemente giocate in tre ed eccolo qua ragazzi il nostro van che comincia davvero a farsi sentire in maniera molto molto interessante intanto voglio farvi vedere una cosa quindi la prima modifica che abbiamo nel van ragazzi e che adesso ci sono dei loghi animati sopra il van e anche sul fianco come vedete il fianco c'ha una freccia che indica l'inserimento della reboot card quindi quella che vi avevo mostrato qualche video fa e sopra abbiamo addirittura l'animazione che ci fa vedere che il van è interattivo ma la cosa interessante ragazzi sono proprio i dati scoperti ecco qua ragazzi abbiamo alcune notizie sul van praticamente serve ovviamente per riavere un compagno di squadra serve una carta e se ne possono ottenere un massimo di 3 nello stack e ragazzi il compagno di squadra che viene respawnato viene respawnato con 100 di legna un ar bianco e qualche 75 munizioni perché al momento della kill perde ovviamente tutte le armi e tutto il loot che aveva con sé quindi al momento del respawn gli viene comunque dato un ar grigio giusto per farlo combattere vi ricordo anche che dovrebbe essere presente al momento del respawn in cielo comunque una cosa che faccia vedere a tutta la mappa che un giocatore è stato appena respawnato di un team quindi non sarà proprio una cosa che passa inosservata e altre modifiche interessanti ecco qua in realtà sono queste che sono nient'altro che quello che vi ho detto poco fa quindi la conferma che viene dato 100 viene dato anche 100 unità di legno per il nuovo giocatore 75 colpi e una r bianco quindi ragazzi l'unica cosa che ci resta ancora da capire è se questo van sarà disponibile solo nelle modalità squad e nel battle royale o invece verrà utilizzato esclusivamente per una modalità a tempo limitato questo non lo sappiamo ovviamente appena avrò delle news ve le farò sapere sicuramente per oggi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su codice creator xyuderone noi ci vediamo alle 13 in arena ciao